1 mattina. La situazione insostenibile tra Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla fa tremare la RAI. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Un'atmosfera tesa avvolge gli studi di 1 mattina. Secondo indiscrezioni che circolano riguardo ai conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Il settimanale Oggi, attraverso la penna acuta del giornalista Alberto Dandolo, svela retroscena inediti. Daniela, giunta nel programma lo scorso settembre dopo un addio doloroso a Linea Verde Life, ha confessato le sue paure. Ho iniziato a soffrire di claustrofobia e ho evitato di prendere aerei e treni. Dopo una caduta in hotel. Ho preso coraggio e ho lasciato Linea Verde. Sebbene inizialmente l'avventura a 1 mattina sembrasse procedere senza intoppi, Dandolo rivela che dietro le quinte la situazione è ben diversa. Sono giovani, belli e affabili in video, ma vivono momenti di insofferenza e screzi. Le tensioni, sembra, derivano dalla, divisione degli spazi, degli ospiti e delle tematiche, con entrambi che ambiscono a dominare il programma. Al momento, nessun commento ufficiale è pervenuto né da Ossini né da Ferolla, ma le voci di corridoio persistono. Resta da vedere se questi contrasti influenzeranno il futuro di 1 mattina. Un dilemma che tiene incollati gli spettatori alla televisione italiana. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.